In nomine Patris e Fili e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, oggi proseguiamo il nostro lungo cammino per approfondire il discorso del sacrificio della Messa. La volta scorsa abbiamo detto che il sacrificio è un'offerta particolare perché è un'offerta che è esclusivamente riservata a Dio e soltanto a Lui. Mentre le altre offerte che si possono fare a Dio possono essere date anche ad altre persone, il sacrificio è proprio esclusivo. E abbiamo detto che il sacrificio può essere il frutto delle consuetudini e delle leggi di un popolo, di una nazione, ma come nel caso della religione rivelata, giudaismo e cristianesimo, il sacrificio è dettato, nelle sue norme, nei suoi modi, nelle sue forme, è dettato dalla divinità stessa, da Dio stesso. Quindi oggi parliamo dei sacrifici come erano celebrati nell'antichità pagana ma anche nel giudaismo. E diciamo che non basta dire che era un culto esclusivamente riservato alla divinità, bisogna aggiungere che il sacrificio aveva sempre due complementi, due aspetti che non mancavano mai. E cioè, il primo è l'immolazione e il secondo è la comunione. Tutti i sacrifici comportavano una immolazione dell'offerta, una immolazione della vittima. In che senso? Nel senso che quando l'uomo portava nel Tempio un'offerta in natura, ecco, poteva essere un animale, poteva essere del cibo, potevano essere delle bevande, quando portava un'offerta al Tempio, quell'offerta non apparteneva più a lui, veniva immolata completamente e destinata alla divinità. Quell'uomo non poteva più poi nel futuro disporre di questa offerta. Questa immolazione era anche confermata dal fatto che se erano animali venivano uccisi, se erano cibi venivano consumati nel fuoco e se erano bevande venivano versate sotto forma di libazioni, appunto. Quindi quell'uomo si privava per sempre dell'offerta, immolava l'offerta completamente alla divinità. Il secondo aspetto che non mancava mai era quello di comunione. Cioè il Signore, vedendo che l'uomo ha agito onestamente, che secondo il suo dovere, cioè ha fatto, ha compiuto il rito con amore, con riconoscenza, con quel senso di adorazione verso la divinità, e ha eseguito anche quei compiti legali che sono prescritti per il sacrificio, la divinità lo rende partecipe delle sue benedizioni, anche in forma molto visibile e pratica, nel senso che al sacrificio della vittima seguiva sempre un momento di comunione. Nel caso dell'olocausto, che era l'immolazione completa della vittima, la distruzione completa della vittima, ma negli altri casi, no, ecco, negli altri casi una parte del sacrificio veniva riservata proprio all'offerente, ma era già stata offerta a Dio, aveva quindi assunto un carattere sacro e Dio stesso, per concessione, ammetteva l'offerente al banchetto di comunione. In questo modo, se aveva compiuto delle colpe nel passato, queste venivano in qualche modo riparate dal sacrificio e quel offerente poteva partecipare a questa comunione, mangiando anche, bevendo anche una parte dell'offerta che Dio concedeva amorevolmente all'uomo che aveva compiuto bene il sacrificio rivolto a lui. Vedete che questi tre aspetti, quindi, del sacrificio erano comuni sia nell'Antico Testamento, per quanto riguarda gli ebrei, per i sacrifici che offrivano nel tempio, che potevano essere di animali, di cibi, spesso focacce, oppure vino, libazioni, no, ma valeva anche per i sacrifici che compivano i pagani. Avevano questi tre aspetti, quindi, il primo è l'oblazione, cioè l'uomo offre qualcosa di suo e se ne priva completamente per donarlo a Dio. Non può più vantare diritti su quella cosa che lui ha donato. E qui abbiamo l'immolazione. Oblazione è l'offerta, l'immolazione è appunto il privarsi, il donarlo completamente a Dio. Il terzo aspetto, invece, è la comunione, quando Dio, per sua bontà, ammette comunque l'offerente al banchetto di amicizia con lui, di comunione con lui, lo rende partecipe, permettendogli di mangiare una parte del sacrificio, di bere una parte del sacrificio, che in quel momento era poi diventata sacra. Quindi l'uomo viene a partecipare di cose sacre, quindi divine. È un po' come quando io porto un regalo a una persona cara e questa persona, per sua gentile concessione, mi invita a pranzo e mangiamo insieme, la nostra amicizia si conferma e si approfondisce. Questa è solo una piccola immagine. Comunque questi tre aspetti di oblazione, di immolazione e di comunione, li troveremo anche nel sacrificio di Cristo e nel sacrificio della Santa Messa. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria in nomine Patris e Fili e Spiritus Santi. Amen.